salve cari amici ed amici del vostro saint jean adesso sono le 23 domani sabato 14 se 14 di giugno ci sarà la partita di calcio dei mondiali italia ingraterra beh io non so se ne seguirò il calcio non mi piace più di tanto però finché vince l'italia metto già la bandiera in caso dovessimo vincere poi ecco questo dire vince l'italia o vinciamo noi vabbè fossero qui tutti i problemi del nostro paese certo a me piacerebbe che l'italia vicesse in vari altri fronti dell'occupazione del lavoro della sanità dell'educazione dettagli gli sprechi dettagli allevazione dettagli alla corruzione contro la criminalità eccetera e la malapolitica però almeno forse altro che ci rimane solo da vincere ai mondiali vinciamo ai mondiali quindi domani forza italia vediamo tanto ai mondiali c'è sempre uno che vince tutti gli altri perdono caggia fa per fortuna che io non scommetto beh allora buon mondiale a tutti io speriamo che ce la cambiamo ea domani adesso sono molto stanco carico questo video taglia inglese chissà quale sarà il risultato speriamo che sia favorevole a noi la nostra squadra di calcio vabbè ciao il vostro sanguinciano